Grazie Mario, è per me un onore e un privilegio affiancarti nella moderazione di questa mattinata che vede alcuni dei più importanti rappresentanti della comunità scientifica italiana che si occupa di sclerosi multipla e che secondo me ha dimostrato anche in questi tempi difficili di saper fare sistema e di essere un esempio veramente positivo nel panorama italiano, lo dico spesso. In questo contesto il professor Giuseppe Matarrese che è il nostro primo oratore è un esempio tra i più lampanti perché immunologo di fama mondiale, oltre che caro amico naturalmente avrebbe potuto occuparsi di tante altre tematiche ma ha trovato evidentemente nell'ambito della neuroimmunologia, della ricerca sulla sclerosi multipla, un terreno particolarmente fertile e invece di occuparsi anche di altre tematiche, si è appassionato talmente di sclerosi multipla da essere oggigiorno colui che dirige i lavori del comitato scientifico della FISM che tutti gli anni decidono il destino dei finanziamenti e selezionano accuratamente i progetti di ricerca. È professore di patologia generale che in altri termini significa immunologia alla Università Federico II di Napoli e lo ascoltiamo che ci racconta di restrizione calorica e regolazione del sistema immunitario. Benvenuto professor Mattarese, benvenuto Giuseppe. Buongiorno, grazie di questa presentazione che è emozionante, soprattutto alla luce del fatto che mi hai fatto venire in mente, faccio un piccolo intermezzo di quando ci siamo incontrati credo nel 2001 o 99 a un meeting a INI e anche della SICA, dell'epoca gruppo di cooperazioni dell'immunologia. Quindi ne è passato di tempo. Bene, allora grazie di questo invito, è veramente un piacere per me. Io vi parlerò di alcune delle linee di ricerca che abbiamo in corso, in particolare focalizzo su questo aspetto della restrizione calorica e dell'intech calorico nel contesto della sclerosi multipla. Condivido un attimo lo schermo. Ecco qui. Ditemi se si vede, è ok? Perfetto. Bene, essenzialmente vi parlerò di una tematica che è attualmente particolarmente calda. Prima di parlarne però fatemi fare dei ringraziamenti perché spesso vengono negletti alla fine delle presentazioni. Questo studio viene fuori da una collaborazione tra il nostro gruppo di Napoli e quello di Roma di Luca Battistini. Quindi ovviamente non può fare a meno di tutti i clinici e ricercatori, molti dei quali parti finanziati e supportati dalla Fondazione Sclerosi Multipla, come Marco Salvetti, Diego Centonze, Claudio Casperini, Maria Grazia Grasso, Roberta Lanzillo e Vincenzo Bresciamorra, Giorgia Maniscalco del Cardarelli. Quindi sono dei gruppi fondamentalmente tra Napoli e Roma. Questa scelta nasce dal fatto che c'era bisogno per questo studio di avere una contiguità, causa le analisi che andiamo a fare che necessitano di una vicinanza e non possono essere fatte su cellule congelate che quindi permettono una vicinanza tale da poter gestire anche gli studi che stiamo facendo. Ciò detto, io vi parlerò rapidamente di un aspetto generale. Diciamo così, lo stato nutrizionale e il metabolismo spesso non vengono considerati così importanti quanto in realtà lo sono. Noi siamo ciò che mangiamo. Il metabolismo ha un impatto sulla vita giornaliera e soprattutto sulla sopravvivenza e la longevità. Negli ultimi trent'anni questo è sempre più chiaro. E immaginate che quando parliamo di benzina, quando parliamo di energia, ovviamente le performance di una macchina e del nostro corpo, che è costituito da parti che necessitano di energia, ovviamente andiamo a toccare alcuni punti importanti. Il sistema immunitario nella sua funzione utilizza energia, così come altri organi, e quindi ovviamente ha bisogno di un certo tipo di strutturazione. Ciò detto, che cosa si è assistito negli ultimi anni? Qui leghiamo quello che è il peso corporeo, la cosiddetta terapia dell'igiene e l'aumento delle malattie autoinfiammatorie. In generale, se andate a guardare le statistiche, le malattie autoimmunitarie nel globo terapio negli ultimi 50 anni hanno avuto una grandissima recludescenza. Arriviamo quasi a frequenze intorno al 10-15% nei paesi più avanzati. Questa cosa fondamentalmente è legata all'intersezione di vari aspetti. Uno dei primi storicamente utilizzati, diciamo considerati, è la cosiddetta igiene. Cioè si è visto che c'è una correlazione diretta tra l'aumento dell'igiene medio nei paesi ricchi e opulenti e l'insorgenza, quindi l'abbassamento di contaminazione ambientale legata al microbiota e le patologie autoinfiammatorie e autoimmunitarie, così come anche le allergie. A questo aumento dell'igiene si assiste anche a un aumento del peso medio e dell'intec calorico. Non abbiamo tempo di entrare dentro, ma queste cose insieme sembrano settare una problematica abbastanza importante, che fondamentalmente è questa. Quindi il sistema immunitario per avere un funzionamento ottimale, per fare tolleranza, per controllare l'infiammazione, ha bisogno di essere trained e funzionare fin dai primi passi nell'infanzia, dopo la nascita. Questa cosa collegata a un controllo del peso corporeo dà una sorta di tolleranza, per cui si è in uno stato di equilibrio. Se andiamo a guardare invece le società più ricche e opulente, in cui c'è un alto grado di igiene, quindi poca stimolazione del sistema immunitario nelle fasi iniziali della vita, e così come tutta la progressione della esistenza di questo individuo, più peso medio delle madri e dei figli dalla nascita con una pressione metabolica e una ipernutrizione alla quale tutti siamo esposti, soprattutto negli ultimi anni che andiamo a guardare nella nostra società, questo si associa epidemiologicamente a un aumento delle malattie autoinfiammatorie. Quindi partendo da un principio molto semplice, vediamo sempre di più che ci troviamo oggigiorno in una condizione, una sorta di discordanza evoluzionistica, cioè in passato noi avevamo una certa quantità di cibo con un grande movimento corporeo, vita all'aria aperta, riduzione media diciamo di quello che è l'impatto di questi alimenti che in passato c'era e al contrario di quello che c'è attualmente, c'è un alto grado di disponibilità di cibo. Questo è il problema principale. Noi abbiamo un altissimo livello di disponibilità di cibo che fino a 50, 60, 70 anni fa non c'era e ovviamente allo stesso tempo ci sono degli aspetti legati alla sedentarietà e anche al fatto che comunque la disponibilità di cibo ci fa avere una pressione metabolica media molto più alta associata poi a quello che è la riduzione della stimolazione ambientata legata al cosiddetto microbiota. Quindi questo sistema immunitario per funzionare correttamente ha necessità di essere in funzione. Se noi lo teniamo atrofico, anergico, fermo, il sistema immunitario tende più facilmente a fare malattie autoinfiammatorie. Questo è un punto molto importante. Le due cose insieme, pressione metabolica e riduzione, diciamo così, dell'impatto ambientale, del microbiota ambientale, sono una miscela purtroppo molto negativa per quello che riguarda la patogenesi di malattie autoinfiammatorie, come anche la sclerosi multipla. Questo fenomeno dà origine a un cosiddetto fenomeno di meta-infiammazione, cioè infiammazione legata all'eccesso metabolico. Non abbiamo tempo di entrare dentro, ma comunque sono tutti i fattori che ormai sono molto chiari e c'è una vastissima letteratura al riguardo. Andiamo subito a quello che è la nostra idea. Circa più o meno nel 2000 proprio, l'epoca in cui ci siamo conosciuti con il gruppo di neuroimmunologia, noi abbiamo fatto degli esperimenti in cui valutavamo come la restrizione calorica nei topolini di laboratorio potesse avere un impatto sulla sclerosi multipla sperimentare e in maniera sorprendente valutammo che questa cosa accadeva. Essenzialmente la restrizione calorica che cosa significa? Significa che noi non dobbiamo arrivare a uno stato di malnutrizione, semplicemente dobbiamo leggermente ridurre il numero di calorie che assumiamo giornalmente, proprio alla luce del fatto che siamo tendenzialmente tutti quanti pernutriti. La restrizione calorica controllata non porta a nessun tipo né di denutrizione né di malnutrizione, quindi questo è un punto molto importante, quindi un apporto calorico bilanciato e controllato, in cui non c'è chiaramente un'estrema conseguenza connessa alla denutrizione. Quindi abbiamo voluto provare a capire se riducendo uno dei due bracci non possiamo agire sulla contaminazione ambientale, perché ovviamente quella è legata a fattori ampi sui quali è praticamente impossibile agire, cioè sul fatto che ci siano meno patogeni ambientali che ci stimolano fin dalla nascita, però possiamo agire sull'apporto calorico e questo è quello che abbiamo cercato di fare in questo studio che vi presento. Quando andiamo a fare una restrizione calorica, fondamentalmente noi abbiamo una risposta multisistemica, sia centrale di mediatori che connettono il tessuto adiposo all'immunità, sia strutturale, perché molti di questi mediatori, soprattutto gli endocannabinoidi prodotti dal cervello, ma anche altri fattori prodotti dal cervello, associati alla restrizione calorica hanno una grande azione antinfiammatoria, sia sistemica che nel cervello stesso. Pensate a questi mediatori come gli endocannabinoidi, oppure la grelina, oppure i neuropeptidi del cervello che hanno un'azione antinfiammatoria molto interessante. Quando dobbiamo guardare la restrizione calorica, non c'è tempo per andare a vederlo, ma voi avete degli effetti anche multisistemici a livello dell'immunità, quindi l'approccio, diciamo così, di restrizione non è semplicemente una dieta, ma ha delle azioni a livello del midollo osso, a livello del metabolismo epatico, a livello del sistema nervoso centrale, a livello delle articolazioni, a livello del polmone, anche a livello, per esempio, di cancerozenesi e così via. Proprio perché i mediatori che vengono prodotti riescono ad avere un'azione antinfiammatoria di controllo sulla omeostasi periferica dell'immunità molto, molto importante. E tra questi, uno dei più interessanti, per esempio, è il betetrossiburitirato, che è uno dei corpi chetonici che è stato scoperto avere un'azione, per esempio, diretta, su una delle proteine più importanti per quella che è la fase acuta, per esempio l'interleukina 1, e questo sistema si chiama sistema dell'inflammosoma, che è molto importante, proprio in tutti i fenomeni di infiammazione, di innesco dell'immunità. Chiaramente non abbiamo tempo per entrare nei dettagli, però sappiate che quindi, quando noi abbiamo un intervento nutrizionale, non è semplicemente una dieta, dieta tra virgolette, ma è un vero e proprio intervento quasi farmacologico. A questo punto vi do un piccolo spotlight su quello che è lo studio che abbiamo in corso, che si chiama Calorie MS. Immaginate calorie e sclerosi multipla. Fondamentalmente noi ci siamo fatti questa domanda. Se noi agiamo con una mild caloric restriction in corso di una terapia con un farmaco specifico in sclerosi multipla, riusciamo a migliorare gli effetti di questa terapia? Essenzialmente l'approccio è questo. Facciamo una restrizione calorica di un 15-20% rispetto all'intec calorico dell'individuo. Quindi fate molta attenzione. Noi cerchiamo di personalizzare la terapia. Non è un intec calorico medio. No, ogni soggetto viene studiato con una malattia a diagnosi e viene valutato quanto mangia e in quel soggetto gli si chiede di avere una restrizione di un 15-20%. Avrà questo un impatto sulla progressione di malattia? Quali meccanismi molecolari avverranno? Che tipo di possibilità abbiamo di migliorare e avere una sorta di incremento dell'efficacia terapeutica dei farmaci in corso. Ovviamente questa è una selva, quella della restrizione calorica, perché sapete benissimo che ormai ci sono un sacco di approcci connessi alla dieta e alla sclerosi multipla. Noi abbiamo cercato di fare una cosa semplice che fosse applicabile alla vita di tutti i giorni. Quindi non ci siamo spinti verso digiuni, verso digiuni intermittenti, verso diete chetogeniche. Abbiamo fatto una dieta molto semplice, molto semplicemente una riduzione calorica media dell'individuo, del soggetto. Perché io ho valutato questi aspetti nella selva del mondo della restrizione calorica e sinceramente ci sembrava molto più pratico, affidabile poter fare qualcosa di applicabile e soprattutto di realizzabile. A questo punto vi presento un piccolissimo report su quello che è in corso. Purtroppo a causa della pandemia questo studio ha avuto un grave ritardo, quasi di un anno. Proprio perché immaginate la difficoltà pratica di arrollare pazienti in un contesto in cui è scoppiata la pandemia qualche mese prima. I centri che sono coinvolti sono quelli che vedete qui, come vi ho citato prima, tra i nostri collaboratori. Diciamo, tra luglio 2020 e maggio 2021 abbiamo arrollato circa quasi una metà dei pazienti. Questo è più o meno il disegno dello studio. Vedete, abbiamo soggetti che a diagnosi faranno un trattamento, specificamente con un solo farmaco e alcuni con dieta libera, altri con restizione calorica controllata e altri con la stessa restizione calorica rimuovendo anche alcuni tipi di alimenti che sono un poco più flogogeni. Verranno seguiti per circa 24 mesi e alla fine dello studio, se ci sono degli effetti positivi rispetto al gruppo a dieta libera, verrà anche chiesto agli altri di eventualmente di switchare sugli altri tipi di terapia. Ovviamente la scelta, ve l'ho detta, è nata sul fatto che volevamo provare qualcosa che fosse realizzabile nella vita pratica. E giusto per darvi un piccolo flavor di quello che sta succedendo, non abbiamo ancora dati sulle analisi molecolari dei pazienti e sull'aspetto più di tipo neurologico strumentale, però ci sono dei flavor interessanti. Innanzitutto che i soggetti di dieta libera sono strettamente seguiti anche loro dai nutrizionisti e la cosa interessante, vedete che quando un soggetto con SM ha la diagnosi ed è messo in terapia, nella nostra casistica troviamo per esempio un aumento medio di peso ponderale. Questa cosa può essere sia dovuta alla problematica motoria che eventualmente c'è presente, ma anche dovuta eventualmente a effetti compensatori legati al fatto che si mangia di più proprio perché c'è lo stress di una diagnosi come quella che purtroppo è della sclerosi multipla. E questo è quello che più o meno accade nei soggetti a dieta libera. Al contrario, guardate, quelli con restizione calorica media, quindi quelli lì con una restizione calorica controllata, c'è una buona aderenza, sono persone molto motivate e c'è un calo ponderale medio di circa 4 kg. Pensate che abbiamo persone che sono più o meno da 4-6 mesi che sono sotto studio più o meno e questo sicuramente è una cosa che ci ha interessato e vediamo se per questo avrà un impatto reale sulla vita media. Quelli con una dieta un po' più ristritta, cioè hanno lo stesso riduzione di intake calorico, ma c'è la rimozione di alcuni alimenti, per esempio il glutine, il latte derivati, questi per esempio hanno un calo ponderale leggermente maggiore, nonostante questi soggetti come calorie hanno esattamente lo stesso numero di calorie di quelli a restizione calorica media. Quindi vuol dire che anche la qualità degli alimenti ovviamente ha un impatto. Che cosa abbiamo guardato? Per ora soltanto dei outcome, quindi come i pazienti si sentivano, che vengono utilizzati per dare delle scale proprio cettive del paziente stesso e che cosa abbiamo notato? Guardando alla vita quotidiana, allo stato emozionale, alla produttività sul lavoro e così via. Fondamentalmente che sembra che questa restizione calorica abbia degli effetti, diciamo, positivi, tra virgoletti, sul senso di fatica, di pesantezza e anche sul controllo vescicale, ma mediamente la sensazione di queste persone sembra essere migliorativa. Chiaramente non c'è nulla da parte mia che sostenga che questo significhi qualcosa. Dobbiamo portare avanti lo studio, dobbiamo fare la nostra analisi, ma è giusto per darvi un flavor della situazione, ci sono dei segnali incoraggiati. Allo stesso tempo, però, la cosa che emerge, per esempio, è che c'è una tendenza da parte dei soggetti, diciamo così, diciamo così, esposti alla dieta, di avere un senso di ansia maggiore, probabilmente perché queste sono persone che hanno, per avere aderito a una dieta, probabilmente hanno un senso di ansia maggiore, una maggiore consapevolezza di quelli che invece sono a dieta libera. Chiaramente anche qui, con qualcosa di generale, non possiamo trarre nessuna conclusione. In ultimo, vi vorrei dare, questo studio che stiamo conducendo ci ha dato la possibilità di coinvolgere i pazienti. È una cosa che, devo dire la verità, in passato non avevo mai considerato questo aspetto per un deficit proprio personale. E grazie alla fondazione, grazie agli input dati da questo studio, il coinvolgimento dei pazienti ci ha dato la possibilità di renderci conto anche molto meglio di quanto una cosa connessa alla vita quotidiana, come la dieta, potesse avere dei feedback importanti anche dei pazienti che vengono coinvolti in questo tipo di studio. Per cui noi abbiamo collaborato con il nostro studio al progetto Multiact, che è proprio volto al coinvolgimento dei pazienti, a un advocacy dei pazienti stessi, e devo dire, questo ci sta dando grande aiuto, grande supporto, non solo nei soggetti che vengono esposti a una dieta, come nel caso nostro, ma anche nei gruppi di controllo, perché anche i soggetti a dieta libera, voglio dire, hanno una loro strutturazione, e se seguiti meglio, probabilmente, sul profilo monetizionale, comunque possono avere dei giovamenti. E essenzialmente, interrompo qui il mio talk, nella speranza di poter, diciamo, interagire con voi e se ricevere anche dei feedback al riguardo. Grazie, grazie mille Giuseppe. Abbiamo raccolto una serie di domande, come premessa, voglio dirvi che noi leggiamo tutte le domande, ma chiaramente rivolgeremo agli oratori le domande che sono pertinenti alla loro presentazione, e anche tendenzialmente domande che sono di interesse generale. Questo non vuol dire che non stiamo considerando tutte le tantissime domande che ci state mandando. E vi ricordo anche che a parte le domande che adesso rivolgeremo ad ogni oratore, volta per volta, ci sarà alla fine una tavola rotonda che potrà prendere in mano anche delle domande molto generali. Faccio l'esempio, la prima domanda che è arrivata è perché dopo 50 anni non abbiamo ancora una cura definitiva per l'SM? Non è una domanda che avrò la crudeltà di rivolgere al professor Matarese. La lascio, diciamo, alla tavola rotonda finale eventualmente di spiegare appunto dove va la ricerca, al professor Salvetti che ci parlerà di questo. Per il professor Matarese ci sono un paio di domande che sono arrivate interessanti. La prima è se il completamento del genoma umano che è stato annunciato in questi giorni può aiutare questi studi. e l'altra domanda è se è una domanda abbastanza scontata vista la presentazione che hai fatto se la regolarità intestinale e il tipo di alimenti influenzano diciamo questi aspetti che hai sottolineato e quindi se ci sono alimenti che vanno privilegiati nella dieta o meno. Sì. Allora come vi ho anticipato esiste una rispondo prima alla seconda domanda e poi è quella del genoma. Ovviamente sapete bene da pazienti e da colleghi neurologi esiste un mondo e una selva di approcci connessi alla dieta in questi anni che si sono proposti. Il nostro tentativo è di dissezionare chirurgicamente e capire se un approccio semplice praticabile può avere un effetto di miglioria su uno specifico tipologia di farmaco non l'abbiamo potuto provare su tutti perché proprio questo è il problema oggi gli studi che ci sono perché questo non è il primo studio su dieta e sclerosi multipla sono divisi e diluiti su pazienti e corti di pazienti con farmaci differenti stati differenti quindi noi abbiamo cercato di essere molto focalizzati quindi detto questo nel pratico attualmente io non mi sento di dire rimuovete questo alimento ritogliete quest'altro alimento e così via perché non ho prova reale diciamo così sperimentale che questo possa avere realmente avere un impatto sulla progressione della malattia ok? In questo momento ci sono dei flavor sperimentali vi porto un esempio se date a animali di laboratorio una dieta molto ricca in glicidi con un alto quantitativo di glicidi questi diciamo così alimentano il fuoco dell'informazione in modelli sperimentali di sclerosi multipla ovviamente questo non vuol dire che se io mangio un bel piatto di pasta mi viene la sclerosi multipla assolutamente no allo stesso tempo forse valutate questo nel tempo come arco temporale chiaramente attenzione io vi ho detto vi ho fatto la premessa che la patogenesi come tale richiede e ovviamente nasce sulla genetica dell'individuo sull'esposizione a genti diciamo patogeni ambientali questi fattori connessi al metabolismo non sono quelli scatenanti altrimenti noi a ogni bel pranzo ogni bella prima comunione ogni bella mangiata domenicale dovremmo avere un'esplosione di malattie immunitarie cosa che non è semplicemente questi come dire aggiungono un terreno fertile perché la tolleranza che è quel fenomeno per cui noi non abbiamo malattie immunitarie possa essere statisticamente più facilmente rotta e rimuovendo la benzina che alimenta l'infiammazione possiamo avere dei miglioramenti quindi questa è l'idea non è ok spero di essere stato chiaro sì 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 visto che abbiamo proprio qualche minuto risparmiato qualche minuto sulla tabella mi permetto di rimbalzartene ancora un paio sì siamo a ping pong proprio quante calorie fate assimilare a quelli in dieta allora non c'è non c'è un numero ecco qua il punto che dovete lo shift è questo questa è una peculiarità del nostro studio noi non diamo una dieta standard a ognuno cioè dire 1500 calorie no noi prima valutiamo lo stato metabolico della persona ne valutiamo la quantità di grasso in maniera scientifica con delle apparecchiature vediamo quante calorie consuma quella persona in base al consumo di quel momento di quel soggetto scaliamo di 15-20% la sua dieta quindi se voi mi chiedete quante calorie devono mangiare non ve la posso dire perché se va Giuseppe Matarese ne mangia 2005 scalerà a 2002 2003 se va Roberto Furlan che è super fitted ne mangia a 1700 arriverà a 1500 ok diciamo questa è l'idea è un punto molto importante perché non si può standardizzare questa è una cosa che non è fattibile bisogna mi consoli perché questo è il mio mantra quando mi chiedono e io non sono preparato naturalmente come te però dico sempre una dieta non può essere buona per tutti assolutamente no quali conseguenze è la restrizione calorica sulla forza muscolare allora vi posso dire che i soggetti intervistati con i Patients Report ad Alcams ad oggi dei due gruppi a dieta stanno meglio hanno meno problematiche ovviamente non ovviamente stanno meglio dei soggetti a dieta libera badate bene che noi abbiamo tre nutrizioniste che seguono tutti quindi anche le persone a dieta libera in realtà sono molto pur essendo liberi sentono ogni settimana le nutrizioniste hanno uno stretto controllo perché noi li dobbiamo tutti coccolare questi pazienti quando fanno lo studio sia i controlli che i casi e devo dire mediamente quelli che abbiamo potuto riscontrare cioè i due gruppi a dieta riportano per il momento un miglior numeramento della forza muscolare l'ultima domanda mi serve solo per passare ritornare la parola al professor Battaglia è una domanda piena di riferimenti molto alla propria situazione personale anche questo è un tipo di domande alle quali facciamo fatica a rispondere qua è una domanda dal mio punto di vista anche divertente perché questa 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 persona con SM che però non ho il nome quindi non so se maschio o femmina dice che il nutrizionista le ha chiesto di mangiare sei volte al giorno e bere un bicchiere di vino rosso e lei astemia e non ce la può fare ah sì femmina astemia si è coniugata al femminile e a parte non poter rispondere perché naturalmente non possiamo rispondere sui singoli casi questo era semplicemente per dire cercate di fare domande di senso generale ma è uno di quegli esempi insomma in cui noi ci siamo trovati di fronte a pazienti del genere ovviamente nello studio ci sono dei limiti dei paletti per cui abbiamo messo un indice di massa corporea tale da permetterci anche una restrizione calorica in un soggetto che fosse magro e sottopeso diciamo che chiaramente nello studio non li abbiamo inclusi quelli che sono già sottopeso però non si può necessariamente escludere perché non lo dimenticate quando noi facciamo una restrizione calorica non vuol dire andare incontro a condizioni di malnutrizione vuol dire semplicemente ridurre quello che noi stiamo mangiando e se una persona ha un suo set point per cui già è magro costituzionale perché esistono i magri costituzionali come forse nel caso di questa persona che è un metro e settanta e pesa quarantanone chili chiaramente si possono trovare dei giusti rimedi nutrizionali per cui anche in soggetti del genere si può somministrare una restrizione calorica che ovviamente non deve avere impatto su quello che però la struttura dell'individuo è intesa come la riflazione ossea massa magra e così via perché non dobbiamo creare poi dei danni a queste persone quindi c'è la possibilità di farlo ovviamente se ha bisogno questa persona ci può contattare gli possiamo dare dei consigli al riguardo perfetto grazie mille Giuseppe per la bellissima presentazione grazie mille 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 grazie mille